E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo anche la Serie A di queste due squadre e poi in settimana commenteremo anche Inter-Barcellona quindi condividete questo video, devastatelo di mi piace, ne esigo 10.000 e seguitemi su Instagram Mi raccomando guardatevi anche i video fatti prima di questo perché in settimana abbiamo abbondantemente parlato sia di Inter che di Roma, futuro Panca Inter, situazione Roma, recuperate tutto e fatevi una bella scorpacciata che abbiamo parlato di molte cose inerenti a questi due team Allora, Inter-Roma, io vi avevo detto, confermeranno i fedelissimi in sede di Pronosto X2 perché mi sentivo questo risultato a sorpresa, ma a sorpresa neanche tanto vedendo l'Inter di oggi l'Inter di questi tempi è l'Inter che è scesa in campo però partiamo dalla Roma Allora, a me della Roma è piaciuta questa idea di partire con questi falsi nueve diciamo, sta cosa di lasciare Abram fuori mettere tre giocatori offensivi contro i tre difensori dell'Inter che sono abbastanza statici, abbastanza lenti era una buona lettura per me sarebbe stata una lettura ancora migliore che avresti verificato ancora di più se la Roma avesse fatto una partita un po' più offensiva una gara un po' più coraggiosa di quella che poi ha fatto perché lasciando stare qualche ottima prestazione individuale penso a Smalling, penso a Spinazzola penso a diversi interpreti della Roma che hanno giocato una buona, alcuni anche buonissima partita ok, lasciando stare questo e lasciando stare comunque la capacità di rimanere attaccati alla partita di rimanere concentrati di sentire comunque l'odore del fallimento avversario rimanendoci aggrappati ecco, lasciando stare questa cosa alcune prestazioni individuali la Roma per me non è che abbia fatto una gran partita cioè io non è che ho visto una gran Roma vi devo dire la verità specialmente i primi 40 minuti la Roma non mi è piaciuta per niente si confermano due squadre queste che hanno dei problemi per me di identità non mi piace come giocano entrambe e anche la Roma oggi vi devo dire allora analizziamo un attimo il contesto tu vai a giocare a San Siro contro un Inter che ha problemi di contestazione societaria l'allenatore sulla graticola giocatori che sbracciano, scazzate, interviste, cose assenze cioè tu devi andare a San Siro e il piglio per me non può essere quello che la Roma ha messo nei primi 40 minuti c'era una squadra che difendeva e neanche ripartiva difendeva e neanche ripartiva perché la prima azione seria per me la Roma l'ha fatta cos'era attorno al quarantesimo nell'azione immediatamente precedente a quella del gol quindi non mi è piaciuto per niente l'approccio della Roma per me la Roma ha vinto sicuramente ripeto per il merito di stare aggrappata alla partita per alcune ottime prestazioni individuali ma anche perché ha seguito l'inerzia di una squadra come l'Inter che la vittoria gliel'ha messa per me su un vassoio cioè la Roma si è adagiata su tutti i limiti su tutta la finitezza su tutta la pochezza su tutte le contraddizioni di quest'Inter qua ci si è adagiata e l'inerzia è andata verso una vittoria è andata verso una vittoria una sconfitta dell'Inter però non posso dire che sia stata una partita che mi è piaciuta non posso dire di aver visto due belle squadre io penso non ho fatto neanche il confronto con le gare dell'Inghilterra che non ho neanche visto oggi le gare della Premier non le ho neanche viste non arrivo a fare il confronto con la Premier faccio solo un confronto con la gara con la quale ci eravamo lasciati prima della sosta Milan-Napoli cioè uno confronta l'intensità la qualità il gioco a memoria che uno ha visto in Milan-Napoli lo confronta con i primi 40 minuti di questa partita qui sembrano due sport veramente diversi sembrano due sport diversi poi anche diversi errori da una parte e dall'altra in fase di costruzione soprattutto anche da parte dell'Inter una Roma che ha fatto una gara sì concentrata una gara tignosa una gara per certi versi se vogliamo dirlo intelligente però per me questa era anche l'occasione di convincere oltre che vincere perché affrontavi una squadra con tante difficoltà non dico che eri in una situazione come il Monza contro la Juve per oggi mi sarei aspettato una Roma più piena dal punto di vista della prestazione invece è una Roma che ha vinto ma personalmente non mi ha convinto perché io penso che se la Roma va a fare una squadra una gara così contro altre formazioni big se tu vai da altre big con questo tipo di atteggiamento per me la gara non finisce così oggi hai trovato l'Inter ci sta è un Inter in difficoltà e poi ci veniamo però neanche la Roma non l'ho vista grandemente brillare commettiamola così l'Inter abbastanza disastrosa cioè lasciando stare la prima mezz'ora è stata anche buona ma perché? perché c'avevi una Roma che ti ha lasciato fare cioè la Roma era a difendere a doppia mandata e ti ha fatto fare cosa? quei giochetti qualche passaggino a centro campo ti ha fatto fare una mole di possesso palla che fin tanto che la condizione atletica ha sorretto un po' i giocatori dell'Inter si vedeva anche qualche trama interessante ma ripeto hai avuto la fortuna tra parentesi te Inter che non ci avevi di fronte una squadra che ti azzannava che ti veniva a pressare alta che ti mordeva sennò anche per l'Inter poteva essere molto peggio sta partita poi già torno dopo dopo il vantaggio un calo un calo totale dell'inerzia della partita lo stesso Inzaghi non ho capito perché abbia aspettato il settantesimo per settantaduesimo per fare i primi cambi in una gara dopo la pausa nazionale oltretutto il primo cambio doveva essere Darmian ad una certa a me ha dato l'idea e non mi serviva la spia di Darmian in campo possibilmente per farmelo rendere conto ma che a Inzaghi e all'Inter tutto sommato il pari andasse bene ad una certa ho visto una squadra abbastanza sedersi una squadra abbastanza anche sterile non ho visto molta gente capace di puntare l'uomo lo stesso Danfries vi ripeto ci ho visto della buona atleticità è uno dei pochi che si sbatte ma raramente riesce a saltare l'uomo una squadra poi che è calata drasticamente una difesa che è calata drasticamente rispetto all'anno scorso io vi faccio anche un altro esempio poi ho sentito Montolivo in telecronaca dire Bastoni è stato tra i migliori in campo ma scusate sbaglio io sbaglio io ho l'azione del gol di Dybala lasciamo stare Andanovic va bene che ha fatto una cappella così come l'ha fatta Rui Patricio sul gol di Di Marco perché era un tiro parabile ma venendo al gol che ha segnato la Roma al primo gol della Roma c'è sicuramente la papera di Andanovic che arretra un tiro centrale un tiro controllabile forse addirittura bloccabile ok ma Bastoni l'avete visto che movimento cioè sembra veramente una roba ma come cazzo fa un difensore del genere che oltretutto girandosi per me vede che che c'è Scrinier a tenere l'altro uomo indipendentemente da questo piglia e si accentra lasciando Dybala solissimo che può controllare al volo tira quindi poi sul gol di Smalling c'è Scrinier che si perde l'uomo quindi una difesa sicuramente che è forse il reparto più in crisi dell'Inter attuale ma anche tante scene solite Barella che dopo dieci minuti inizia già a sbracciare una squadra che mi pare anche in debito ripeto di condizione di ossigeno una squadra che fa fatica a stare in partita fino alla fine che ad una certa mette la riserva qualche ideina di gioco sì quando sei al decimo al quindicesimo che la squadra ancora tra virgolette si regge in piedi quando c'è un po' di birra qualche triangolazione cina la vedi ma ripeto l'hai vista oggi perché giocavi contro una Roma che ti ha lasciato fare la sensazione che ho è sempre la stessa ci stiamo entrando un po' nel già visto per capirlo meglio di Allegriana Foggia cioè siamo a commentare una squadra in cui purtroppo per l'Inter i problemi sono conosciuti e si ripetono gara dopo gara c'è una squadra che vedo anche scollegata dal mister una squadra che sembra voler uscire dalle difficoltà più per intuizioni sue che seguendo un disegno razionale un mister che dalla panchina non riesce ad incidere o meglio incide in negativo perché o non fa i cambi o li fa troppo presto o li fa troppo tardi un allenatore che lo vedi anche dalla faccia non è che ti ti dà un po' di sensazione di ansia capito di a che cazzo ci aggrappiamo lui in primis quindi qua qua è una situazione per me la vedo brutta a livello proprio di e poi anche tanti giocatori onestamente che avevano e si è andati a prenderlo hanno fatto il loro il loro tempo una squadra un po' per me a fine a fine benzina a fine ciclo fine 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 volontà ecco mettiamola così ditemi cosa ne pensate un caro saluto che